I carabinieri della stazione di Bellizia hanno arrestato in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Velletri un 28enne del posto, condannato alla pena definitiva di 4 anni e 6 mesi di reclusione e 12.000 euro di multa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il reato è stato commesso a Frascati il 20 settembre 2017. Quel giorno il 28enne venne trovato in possesso di 3,3 kg di cocaina. Espletate le formalità di rito, l'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Forni.